Cosa c'è di meglio di una bellissima corsetta sul lungomare di Marsala, dopo una giornata di lavoro, bellissimo lungomare, a fare proprio il massimo per cercare di detossificare le tossine di una giornata e per apprestarci ad un weekend piacevole, gradevole. La corsa è salute, lo sport è salute, per cui il consiglio di chi lo fa da anni, anche ai ragazzi, impegnatevi, correte, mente sana e in corpo sana, come dice qualcuno, in corpo sano, ecco adesso manca un po' di ossigeno, l'età avanza, però non si demorde, la tenacia c'è sempre. Siamo già al settimo chilometro, vedo il mio amico Sampirisi a Siracusa che si fa le camminate, Sampi potresti ancora farti le corse, eri anche tu un assistente nato e quindi sei abituato agli stress, nonostante l'età. Quindi ragazzi, mi raccomando, impegnatevi anche a chi è meno giovane, risparmiamo, facciamo risparmiare il Ministero della Salute e cerchiamo di arrivare belli freschi alla pensione, alla faccia di chi sta fermo, non si muove e diventa obeso, quindi cerchiamo di muoverci e di divertirci correndo, faticando, sudando, perché poi la doccia è un vero tocca sana. Ciao a tutti da Lungomare di Marsala.